L'altra sera hanno rubato quasi giù. Scatta la task force tesa a contrastare i furti nelle abitazioni e la prima vittima è un uomo delle forze dell'ordine, mentre i malviventi circolano liberi di colpire ancora. I furti si ripetono da giorni ormai e la gente è stanca, quasi rassegnata al fatto che accadrà di nuovo. In questo clima non è facile trovare qualcuno che non giustifichi l'utilizzo di un'arma per difendersi, facendosi giustizia da sé. Effettivamente sul nostro territorio ci sono state delle situazioni molto spiacele riguardo dei furti di appartamenti, c'è stata anche una truffa in realtà qui in zona, anzi a poco distante da qui, una signora anziana che aveva da poco percepito la pensione, non so come sia successo, probabilmente l'hanno seguita e gli hanno praticamente asportato tutti quanti i soldi. La psicosi che si sta diffondendo sta portando le persone a farsi giustizia da sé, qual è la sua opinione in merito? Guarda questa è una cosa molto negativa perché le persone che cercano di farsi giustizia da sé sicuramente commettono degli errori gravissimi sotto diversi punti di vista. Uno perché sono persone sprovvedute non essendo esperti di armi, queste sono cose che devono fare solo le forze dell'ordine, quindi telefonare le forze dell'ordine perché a volte ogni ombra che si vede, ogni persona, qualcuno che passa nello scuro potrebbe passare per un evidente ladro. L'allarme si crea e purtroppo noi siamo considerati ancora delle zone ricche, tra virgolette, quindi tutti si riversano in queste zone. Li arrestano ma il giorno dopo già stanno fuori, già sono liberi, quindi ci fanno il foglio di via e vengono i complici. E quindi è un cane che si morde la coda, è inutile, la legge non funziona. Lei si sente al sicuro? Mi sente al sicuro, soldi non ne tengo, lo metto pure per il scritto vicino alla porta. Io tante volte non vavo a dormire nella camera da letto quando il maritimo non vene. Io dormo un coppo di vanno fuori, qua non sentono poco poco di rumore. Dico, va io qua non c'è niente, se tenete i soldi mettete mele sotto la porta, se no vi vengo pure aprì. Stanotte a Mirabella, nell'ultima notte, un signore, un anziano di 92 anni ha scambiato un carabiniere per un ladro e lo ha sparato col fucile. Lei come commenta il farsi giustizia da sé con le armi? Eh figlia mia, qui aveva pure ragione, non vuoi chiarirlo, che poi l'ultuorto lo danno a noi, quello è il guaio. E noi poveri disgraziati, che siamo vecchi e ne approfittano molto, tanta fidendi. Grazie.